Musica Posso restare qualche giorno qui? Senti, ho un problema con tua figlia. Siamo da una scrittrice e sono venendo a coi per il giornale. Jess è chiusa in bagno e non vuole più uscire. È una situazione assurda e sto praticamente abbandonando mia figlia. Erika non è mia madre vera. Io sono stata adottata. Vista la situazione forse è meglio se rimane qualche giorno qui. Dice che se vogliamo la può tenere lei ancora qualche giorno. Ci pensi pure? Ti bastano 150 per la settimana? Non mi servono, ti ho già detto. C'è una sorpresa pure per vecchio. Il signore Dio di tutte le droghe. La volete finire con questo chiasso, per favore? Oh, mia tua, a piazza! Non mi piace che tu stia in piazza quando ci sono quei ragazzi. Che ti dice che sono stati loro? Di mano allo giù il fumo. Ammazza come ti guarda. Ciao! Sei baciata la lingua? Però grazie di avermi hanno chiesto. Tu ne sei mai innamorata? Uno si innamora di qualcun altro perché lo conosce. Lo conosce non perché ci parla, ma perché quando lo vede sa già tutto di lui. Ma state baciata il Questo è tutto. Buona visione! A presto! Ciao! Grazie a tutti.